Tu parlavi di macro regioni e proprio sulle macro regioni hai incentrato l'intervento di Piero Bastetti che adesso vediamo. Oggi secondo me la macro regione è il nuovo modo di rapportarsi del fenomeno urbano al territorio sul quale è collocato, cioè la macro regione è definita nella nebulosa della Glocal City a quegli spazi essenziali allo sviluppo della vita della Glocal City. Oggi la funzione dell'ente regione che è un tipo di organizzazione che ha funzionato poi in Lombardia lo possiamo dire, in una situazione in cui il rapporto tra città e campagna non era più organizzabile da Roma ma doveva essere organizzato da Milano, è quello di accompagnare la trasformazione che deve avvenire perché la Padagna da regione diventi una Glocal City. A mio avviso la trasformazione di Milano in Glocal City non può essere fatta dal comune o dalla provincia, il tema è aperto e nemmeno dall'area metropolitana se la concepiamo come una parte di una regione, invece deve essere fatta con la collaborazione di chi ha una tradizione di organizzazione del territorio con i centri di potere istituzionale che hanno una capacità di organizzazione delle funzioni. La sfida secondo me alla burocrazia dell'ente regione è di assecondare il travaglio che sarà interpretato dagli enti non uno che dovranno esprimere la Glocal City, in modo tale che si arrivi a una Glocal Region in cui l'eredità dell'ente regione e l'eredità degli enti comunali sono trascesi nell'organizzazione statuale della Padagna. Dobbiamo trovare la forza di gravità che tiene insieme il sistema, perché dobbiamo abituarci a vivere in un'organizzazione sistemica, non centrica. Se la regione Lombardia ha intenzione di superare la propria originaria dimensione e postulare come regione non più la Lombardia ma la Padagna, cioè la regione del nord, è chiaro che dovrà essere capace di relazionarsi subito e in modo possibile egemonico con lo sviluppo delle funzioni urbane che si stanno sviluppando tra Torino e Trieste. La Lombardia attuale secondo me deve fare una sola cosa, paradossalmente l'Expo lo dimostra. Prendere coscienza della integrazione totale che la regione deve fare con la dimensione urbana, sia essa Milano o anche Varese, Como e Sonio, la riapertura del tema delle province ce lo pone. Vogliamo la regione in subrica, Monza e Milano o Brianza? Questi temi di riorganizzazione dello spazio regionale che non sono della città, perché la città si dedica alla riorganizzazione dei plessi di funzione. Una regione che coglie l'epoca e la sfida dei tempi, oggi dovrebbe essere attentissima al processo di metropolizzazione che le leggi dello Stato hanno aperto, questa secondo me è la prima sfida, ripensare radicalmente se stessa, il che vuole dire ripensare la Costituzione, non c'è ombra di dubbio che il regionalismo frutto della nostra attuale Costituzione non ha futuro, perché quello era in fondo un decentramento territoriale, con un più di autonomismo, mentre oggi il problema è la riorganizzazione glocal, cioè nel mondo glocal il locale non è autonomo, non può essere autonomo, è integrato come nel corpo umano, anche l'ultima cellula città, se no c'è il rifiuto, qualunque tentativo di espandere la regione per addizione fra regioni è un errore madornale, in questo momento chi si deve gestire per ascendere alla macro regione è l'essenza dell'ente regione, è l'ontologia della regione che va reinventata su una nuova dimensione che non va necessariamente cercata sulle articolazioni spaziali del passato. Musica per le vostre orecchie, è anche un'ontologia. Tanti concetti ci sono e anche parecchio complicati, avevo giusto capito cos'erano le smart city, adesso ricominciamo, va bene.